riassunto delle puntate precedenti abbiamo abbiamo detto che il lancio del del martello non del peso il lancio del martello quando un atleta gira su se stesso lancia questo martello in che modo lascia il cavo e il martello parte come si suol dire per la tangente cioè in pratica il martello che cosa fa finisce il suo moto circolare per intraprendere istantaneamente un moto rettilineo qualcuno ha paragonato la forza di gravità della della terra come se fosse un filo quindi un ipotetico aereo anche se si stacca da terra rimane ancorato tramite la forza di gravità io adesso avanzo un'ipotesi no io cerco di creare il problema voi lo sapete e poi se ne discute no il cavo il filo è un è in tensione perché il martello ha un peso che con la forza centrifuga tende praticamente a tirare questo cavo e questo cavo fa cambiare direzione al martello la forza di gravità nel momento in cui il l'aereo si stacca dovrebbe funzionare da filo ma nel video precedente io dicevo che questo filo non era proprio la forza di gravità perché se si stacca l'aereo e parte per la tangente la forza di gravità non funziona da filo ma era l'attrito dell'aereo sulla superficie terrestre a funzionare da filo cioè questo attrito prendeva questo aereo con la forza di gravità che appoggiava quindi c'era un appoggio sicuro traccinava l'aereo nella rotazione terrestre nel momento in cui l'aereo si stacca è vero che rimane la forza di gravità però io ho definito questa forza di gravità monodirezionale che cosa intendevo dire con questa monodirezionalità, questo vettore monodirezionale? che se l'aereo è attaccato al suolo la terra può muoversi in qualsiasi direzione ok? d'accordo? nel momento in cui l'aereo si stacca e la forza di gravità e la terra fa questo lavoro l'aereo non subisce tutte le direzioni ma subisce soltanto la gravità che è perpendicolare al centro della terra quindi quando io parlo del lancio del peso e parlo del cavo che connette il peso all'atleta che lo tiene stretto tra le mani io parlo dell'attrito che l'aereo subisce e rimane ancorato insieme alla forza di gravità la forza di gravità rimane ancorato sulla superficie terrestre in ogni direzione nel momento in cui si stacca l'aereo però la forza di gravità agisce soltanto perpendicolarmente quindi noi impieghiamo una forza per far staccare l'aereo però se la terra continua a girare questa forza di gravità rimane sempre perpendicolare all'aereo perché praticamente la forza di gravità agisce così non agisce così se noi prendiamo due calamite queste sono due calamite le appiccichiamo quindi con l'attrito quello che potrebbe essere l'attrito di un aereo sulla terra noi prendiamo una di queste due calamite e la ruotiamo la ruotiamo in tante direzioni la spostiamo l'attrito fa sì insieme alla forza di attrazione magnetica di questi due magneti fa sì che praticamente questo pezzo rimane sempre collegato in ogni direzione nel momento in cui non stacchiamo la calamita immaginiamo però di non avere una calamita piccola, singola ma abbiamo una calamita diciamo semicircolare che ha tutto un polo da una parte e un polo dall'altra se noi abbiamo questa calamita semicircolare e stacchiamo la seconda calamita nel momento in cui andiamo a girare la seconda calamita sarà tratta sempre verso il centro ruotando la calamita circolare non otteniamo che l'altra calamita si sposta di conseguenza almeno che non abbiamo proprio un flusso dritto sull'altra calamita siccome che la terra ha una forza di attrazione gravitazionale monodirezionale cioè verso il centro della terra staccando l'aereo e facendo girare la terra ipoteticamente di qua e di là l'aereo non fa di qua e di là ok? perché la forza gravitazionale della terra non agisce sull'orizzontalità dell'aereo ma agisce sulla verticalità dell'aereo e l'esempio della corda cioè la corda non è paragonabile alla forza di gravità la corda è paragonabile all'attrito che lega alla terra cioè noi adesso facciamo conto che possiamo prendere questa palla questa terra e possiamo ruotarla in ogni direzione e abbia in qualche modo questa forza di gravità o una forza magnetica questo aereo è ancorato sulla terra qualsiasi movimento che facciamo fare all'aereo l'aereo è attaccato alla terra nel momento in cui solleviamo con un'altra forza l'aereo che è soggetto sempre alla forza di attrazione anche se noi giriamo la terra come forza gravitazionale non ha una polarità che può spostare sempre l'aereo in base al nord-sud ok? ma la forza di gravità è una forza che agisce su tutte le direzioni il vero vettore della forza di gravità è un vettore monodirezionale cioè il vettore che prende l'aereo e cerca di attrarla a sé ma se noi ipoteticamente abbiamo l'aereo qua e la terra qua prendiamo la terra e facciamo questo lavoro l'unica forza che agisce sull'aereo sarà sempre quella verso il centro non è che se stacchiamo l'aereo giriamo la terra l'aereo fa così l'aereo fa così soltanto quando è attaccato sulla terra con l'attrito questo è un altro casino un altro problema un'altra cosa che mi metto nelle orecchie delle pulci qualcuno dice l'ho già smantellato questo spettro dai dai sì continuiamo continuiamo a ragionare su questa forza di gravità che non è il filo il cavo no il cavo è l'attrito aiutato dalla forza di gravità che lo tiene e con l'attrito può spostare l'aereo quindi ricapitolo l'ultima volta per farmi capire prendiamo questa palla che ha una forza di gravità che attira qualsiasi cosa nelle sue vicinanze verso il centro prendiamo un aereo lo appoggiamo tramite la forza di gravità l'aereo si appiccica poi prendiamo questa palla e la ruotiamo e l'aereo in qualsiasi direzione è sempre appiccicato alla palla nel momento in cui io stacco l'aereo la forza di gravità agisce con un vettore monodirezionale però nel momento in cui io sposto la terra l'unico vettore che ha l'aereo è soltanto di essere attratto in un'unica direzione io posso girare la terra come voglio questa palla la giro come voglio ma comunque l'aereo non subirà questo tipo di problematica ok? l'aereo rimarrà sempre sospeso in aria qualsiasi movimento fa la terra ne discutiamo in chat grazie